Sono finiti in carcere gli aggressori del 54enne, finito in ospedale, ma fortunatamente non in gravi condizioni. Sabato scorso, in mattinata, due giovani, un 19enne sudamericano trapiantato a Teramo ed un teramano di 21 anni, si sono presentati davanti la porta di casa dell'uomo, nella centralissima via Capuani. Hanno suonato il campanello e lui ha aperto, perché conosceva uno dei due a quanto pare. Ma i due giovani lo hanno aggredito con un coltello da cucina preso proprio nella sua abitazione. I due sono quindi fuggiti, rubando il telefono cellulare dell'uomo e 10 euro, anche se si presume che cercassero un bottino molto più sostanzioso. I due giovani sono stati rintracciati ieri, a poche ore di distanza, l'uno dall'altro. Sembrerebbe che uno dei due sia lo stesso che, proprio in quella mattinata, ha aggredito l'uomo in Viara Nero. Proseguono anche le indagini sull'altro gravissimo fatto di cronaca di sabato scorso. Un 184enne Teramano, sceso dal bus in Piazza Garibaldi, è stato aggredito da due balordi, con un pugno. Gli hanno spaccato il setto nasale, perché alla loro richiesta di una sigaretta, l'anziano avrebbe semplicemente risposto di non averla. Dopo il grido d'allarme lanciato ieri dal capogruppo della Lega, Berardo Rabuffo, anche il capogruppo di Fratelli d'Italia, Luca Corona, denuncia l'assenza di sufficienti forze di polizia locale e telecamere. La microcriminalità a Teramo è in aumento, afferma Corona, servono più agenti di polizia municipale che possano muoversi anche con biciclette elettriche o quad per un miglior pattugliamento del territorio. Anche le telecamere, sebbene sono in arrivo altre, non sono sufficienti a coprire l'intero centro e comunque Piazza Garibaldi va maggiormente attenzionata, perché da anni, e ormai allo sbando, conclude Corona.